Giovedì 10 settembre, buongiorno con TRG Mattina. C'è il problema dei rifugiati nelle aperture dei quotidiani sia in chiave locale ma anche in chiave nazionale. Lo vediamo subito con il Corriere dell'Umbria. Arrivano altri 400 migranti applicati all'Umbria, la quota del 2% ai 20.000 profughi annunciati dal Ministro Alfano. La Chiesa offre 15 strutture, la percentuale del 2% calcolate in base all'incidenza della popolazione regionale sul totale nazionale, già riferita al cuore verde nella cartina del riparto dell'accoglienza. Fino ad oggi il tetto massimo aveva appena superato le 1.200 unità, come detto, nuove destinazioni. E poi la carica degli aspiranti veterinari. In 426 si sono presentati ai test di ammissione corsi di laurea. Da Umbertide chiude l'azienda FDC 35 senza lavoro. Da Foligno apre il sottopasso del plateatico. Questi alcuni spunti che arrivano dai territori. Giornale dell'Umbria, ricevamo il problema rifugiati in chiave internazionale. Danimarca chiusa, titola il quotidiano Umbria. Il presidente della Commissione europea ha un dovere a cogliere chi fugge, ma il paese scandinavo risponde bloccando treni e autostrade. Altro fatto di taglio nazionale nella prima pagina del Giornale dell'Umbria. Casa Monica Show in diretta TV, bufera su porta a porta. La trasmissione della figlia e il nipote del boss defunto. Riccardo Chiatti, Rimpallo, Umbro, Sardo, dall'Isola riprendetevelo. L'Avvocato Picuti dice meglio che rimanga là. E poi tanti richiami come è evidente a partire proprio dall'interazione della FCU. La questione approda a Roma è il tema che tiene banco in Alto Tevere. Ce le siamo occupati anche nell'appuntamento di TRG attualità di ieri con la presa di posizione dei sindaci dell'Alto Tevere. L'Umbria per la nazione, la nostra vendemmia e l'apertura verso un'ottima annata, ma molto dipende dal meteo di queste settimane. La Col di Retti dice a superare quota 700.000 e tolitrim. Dalla sanità l'opera al naso, magli, fratture e il cranio. L'Asda risarcisce il paziente con 820.000 euro. Corte dei conti contro il medico. Profughi a spasso in superstrada. 20 Eritrain, fuga notturna dallo stello di Ponte Felcino. Rischiano di essere investiti. È successo la scorsa notte. Poi la tragedia del Cocorico. I genitori del giovane dicono non cali il silenzio. Il giovane Tifernate, la famiglia dunque, prende posizione. Poi a Gubbio e la fortuna vinti 130.000 euro. Chiediamo con la prima pagina con il messaggero. Abusi del vigile e danno all'immagine. Condannato per avere preteso rapporti sessuali da una minorenne costretta a prostituirsi. Ora la Corte dei conti chiede 30.000 euro per aver infangato la divisa e il comune di Perugia. IMS, morta da 10 anni ma la pensione la rivolgiamo. Calcoli rifatti nel 2005. Abbiamo l'obbligo di recuperare i crediti. Appunto arriva dall'Istituto di Previdenza Sociale. Poi l'angolo del metro, come sempre, in chiusura dell'esame delle prime pagine. Temperature di nuovo in salita. Questo è il risponso dell'esperto. E allora noi torniamo al Corriere dell'Umbria per la disamina delle pagine regionali. C'è ovviamente in apertura il problema rifugiati. Altri 400 pronti ad entrare. 15 chiese aperte. Alle 17 di ieri erano 15 le proposte arrivate da altrettante realtà religiose della diocesi di Perugia. Perugia e l'Umbria sono molto generose e solidali, è stato il commento che arriva appunto dal mondo della chiesa. Poi arrivano 47 ritrei. La metà si allontana. Erano sbarcati in Calabria. Un gruppo che ha percorso a piedi dell'Ai45 subito rintracciato dalle forze di polizia. Abbiamo visto in prima pagina anche la carica dei 426 aspiranti veterinari. Tanti si sono presentati ai test di ammissione e corse di laurea. Ma i posti a disposizione sono 63. E poi c'è la buona scuola esaminata dal punto di vista dell'edilizia scolastica con 8,5 milioni a disposizione. Lo annuncia l'assessore regionale Bartolini per cui annuncia appunto la delibera approvata dalla Giunta che nella sua ultima seduta ha dato il via alle procedure di selezione di 5 progetti riguardanti la costruzione di nuove scuole che entro il prossimo 15 ottobre dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Istruzione per il relativo finanziamento. Nel dibattito regionale reddito minimo garantito Fratelli d'Italia appoggia il Movimento 5 Stelle squarta lì c'è pur che si accolgano le proposte. Ancora con le pagine regionali eccoci al giornale dell'Umbria rifiuti, buco milionario, conti e rischi tax gap così in Umbria dopo l'allarme di CNA sui crediti inesigibili in bolletta. L'allarme di CNA secondo il quale tra le voci di costo che i comuni prenderanno in considerazione per determinare le tariffe della Tari ci saranno anche crediti considerati non più recuperabili riferiti agli anni scorsi quando la tassa portava altri nomi. Ancora con l'Umbria opportunità ancora da costruire si parla di giubileo e turismo Federalberghi chiede subito azioni concrete in vista dell'appuntamento che scatterà nel mese di dicembre. Ancora dalla vita regionale consenso e storto con inganni e bugie nullità matrimoniale più veloce senza fede la riforma del Papa padre Paolic la decisione dal tribunale ecclesiastico al Vescovo. Ancora con le pagine regionali eccoci alla Nazione è scattata la vendemmia superare 700.000 ettolitri col diretti dice possibile aumento delle 10% la struttura dei vigneti è ottima ma molto dipende dal meteo settembrino e intanto Montefalco capitale del bere di gran qualità dal 18 al 20 settembre c'è Enologica 2015. Per il Dorso Umbro c'è il capoluogo Perugia in primo piano tutelare l'arco etrusco rispondo presente parlare Brunello Cucinelli che dice ma sulle modalità mi rimetto alle scelte che farà il comune poi via Baglioni ci vogliono i vigili i residenti automobilisti un presidio per la sicurezza dei pedoni il problema dei rifugiati fuga dallo stello profughi a piedi in superstrada l'abbiamo visto e poi dalla pianeta sanità o meglio dalla giustizia applicata alla mala sanità lo opera al naso ma gli frattura il cranio il paziente risarcito dall'asle con 820 mila euro la corte di conti contro il medico ancora con il messaggero gli sviluppi delle pagine dei servizi in apertura segnaliamo la scuola 40 posti non assegnati dalla fase B non saranno attribuite tutte le 98 cattedre previste per oggi assunzioni per profe di chitarra chimica e meccanica per il sostegno che è in 400 altri 100 vanno in classe con la supplenza personaleata i provinciali non corrono questo quindi con il messaggero allora noi torniamo il Corriere dell'Umbria per vedere da vicino le pagine dei territori lo facciamo partendo da Perugia con anche qui la richiesta che il medico risarcisca 820 mila euro lezioni dopo l'intervento di septoplastica la procura contabile dice il chirurgo paghi l'indennizzo dato dall'ASL al paziente poi spacciava cocaina a sciscia a Ponte Valleceppi è stato arrestato da Perugia ancora le ruspe demoliscono Villananni partiti i lavori per radere al suolo il simbolo del degrado ora i progetti del centro direzionale e del McDonald's e poi da Perugia ma riguarda naturalmente tutti i comuni protocollo per tutti i trattamenti sanitari obbligatori dei vigili scatta la diffida alla municipale l'affondo del sindacato autonomo che ha sollevato il caso del comune di Perugia ma che rileva gli stessi problemi in tre amministrazioni del cuore verde tutto pronto appunto per il levar dei dirigenti altri movimenti appunto che riguardano il comune di Perugia ancora con le pagine dei comprensori ci spostiamo ad Assisi o meglio a Santa Maria degli Angeli perché sono attesi migliaia di visitatori per il Food Truck Festival si scaldano i motori per la prima kermesse dedicata al cipo di strada appuntamento proprio nel nuovo pala eventi di Santa Maria degli Angeli intanto valser di nomine di incariche pastorali di Occiusia di Assisi Gualdo e Nocera nel segno del rinnovamento a denunciare il vescovo Sorrentino ancora con i territori Alto Tevere il problema FCU al centro delle attenzioni locali ma anche nazionali allora salvare il servizio e avere certezza sul futuro della ferrovia centrale Umbra intenti comuni dei sindaci della zona nord della vallata chiesto un incontro a breve con l'assessore regionale Chianella salvaguardia del servizio e certezza sul futuro i sindaci sono quelli di Città di Castello San Giustino San Sepolcro e Umberti riuniti a Città di Castello dopo l'annunciata sospensione delle corse per ragioni di sicurezza trasferire quotidianamente un volume di oltre 200 persone da Città di Castello ad Umberti e su pulmona significa non solo penalizzare gli utenti ma congestionare nelle ore più intenso flusso il sistema del traffico interno intanto l'onorevole Giulietti chiede certezza a Del Rio sullo stop ai collegamenti ferroviari interrogazione urgente al ministro delle infrastrutture e dei trasporti da parte del parlamentare PD la serie della canoa è a zero barriere ieri c'è stata la consegna al termine dei lavori in occasione della manifestazione la canoa è per tutti sono i giorni di vigilia della mostra nazionale del cavallo che apre ufficialmente le porte domani alle 17.30 ma già da domani tutta la città naturalmente sarà interessata da questo appuntamento di caratura nazionale oggi intanto l'anteprima della mostra con la suggestiva sfilata nel centro storico la città griffata con le immagini della manifestazione si prepara all'inaugurazione appunto di domani dalle 14 alle 20 cambia il traffico per il passaggio dei cavalli FDC ciassa l'attività in strada 35 lavoratori RSU dichiara 8 ore di sciopero a turno intanto Umbertide si prepara invece a vivere le giornate in cui verranno riproposte le atmosfere dell'Ottocento le feste di settembre di fine Ottocento il via alle 20 e 30 in piazza del Trocasce poi siamo a Gubbio storici ed esperti di fama internazionale a confronto per il festival del Medioevo presentata la manifestazione che si preannuncia unica nel suo genere tra appuntamenti mostre e dibattito nella presentazione c'è stata a Roma nella sede della Rai a Viale Mazzini naturalmente abbiamo sentito il resoconto già nell'edizione di ieri del nostro notiziario ulteriori approfondimenti ovviamente nelle prossime edizioni del notiziario intanto la Dea Bendata torna a baciare la città vinti con il lotto più di 128 mila euro la bella notizia nella tabaccheria di Lucia Minelli in Corso Garibaldi il fortunato cliente ha giocato una schedina centrando un terno secco nasce il network i colori della solidarietà appuntamento per oggi alle 17 il network i colori della solidarietà e gubine poi la cronaca stroncato un giro di droga attivo nella fascia penninica carabinieri hanno arrestato due uomini accusati di spacciare stupefacenti l'operazione grazie alle indagini condotte dai militari Foligno Foligno domani arriverà una giornata importante perché c'è in programma l'apertura del sottopasso del plateatico si potrà raggiungere il polo scolastico attraverso il tunnel che arriva fino a Viale Marconi Quintana ed enologia in vino veritas etichetta d'autore Cassero e Terre dei Trinci vanno avanti con la loro collaborazione la cronaca altro botto allo stesso incrocio quello tra via Gramsci e via Palestra è diventato teatro quotidiano di incidenti sono numeri positivi intanto per il turismo nei primi sei mesi dell'anno oltre 100.000 arrivi e 195.000 presenze tra la città e i borghi che la circondano cambio al vertice della finanza compagnia Folignati ora c'è il capitano amoroso da Spello la Lega Nord attacca poca informazione sull'arrivo dei migranti da Montefalco il gemellaggio addirittura d'arrivo quello con Nerviano giornale dell'Umbria ripartiamo da Perugia Romizzi in ripartenza io fuori dal palazzo il sindaco stila l'agenda dei temi e punge penso solo al centro storico banalità questa è la sua risposta il dialogo con i perugini è il nostro punto di forza presto altri confronti intanto profughi a piedi marciano di notte lungo l'Ai45 l'abbiamo visto da Ponte San Giovanni via Volumnia strada dei Loggi ci siamo riapre integralmente l'intersezione tra le due arterie i lavori proseguiranno con gli interventi di rifinitura andiamo nella provincia di Perugia con gli spunti che arrivano sulla vicenda Chiatti rimpallo Umbro Sardo Foligno dalla Sardegna non lo vogliamo e l'Umbria paga 600 euro al giorno e poi da Gualdo debiti per acquistare la coca spacciatori della rete gli inquirenti dicono il giro si stava allargando pericolosamente le indagini non si fermano ancora con le pagine della provincia di Perugia F.C.U. la questione a Proda Roma l'assessore rassicura poi per la Fano Grosseto un miliardo per chiudere entro il 2020 gubbio troppi esterni in comune l'assessore risponde sono necessarie la risposta al consigliere Gagliardi e poi da San Giustino demografia accordo comune università questi dunque gli spunti con il giornale dell'Umbria la nazione abbiamo già visto quelli riguardanti l'intervento di tutela dell'arco etrusco se ne segnaliamo altri mercato coperto un'altra consulenza nuovo incarico esterno per il progetto i dirigenti dicono indispensabili ma due mesi fa un contratto da 37 mila euro fece infuriare l'assessore Fioroni ancora con la nazione riscossa Cico Mendez saranno demoliti i ruderi che ora infestano il parco da risanare l'ex nanni via al cantiere privato andiamo direttamente ad Assisi con le nuove nomine della Dioce si abbastiare a Franchi eseguiti i controlli nel sottosuolo delle ex officine piano urbanistico fermo convocata la conferenza dei servizi Gubbio col palombo cambia volto 100 mila euro per la riqualificazione inaugurati i lavori in centro durante la festa del patrono tanto il Vescovo Cecco Belli augura buon anno scolastico agli studenti eugubini poi due gare in centro ricavato alle scuole eugubini eugubini sono a Ranforio e la Corrigubbio ancora da Gualdo grande festa di San Pellegrino tanta gente alla cerimonia da parte della compagnia dei carabinieri di Gubbio un'operazione nel comprensore fermato il giro di spaccio a città di Castello Maia San Giustino in Alto Tevere ride in tabaccheria il video del furto del furto su internet chi riconosce l'intruso chiede aiuto il proprietario del bar di Lama saccheggiato il malvivente con il volto coperto ha fatto razzia di tabacchi e tagliandi e poi genitore di Lamberto non cale il silenzio sulla nostra tragedia illegale potrebbero emergere anche altre responsabilità e la cecchini si dedica al design della ceramica l'azienda storica con una vocazione artistica ha visto appunto in prima linea l'assessore regionale poi la vicenda FCU è partito all'ultimo treno da oggi lo stop in certezza sui tempi dell'intervento di messa in sicurezza l'appello dei sindaci viene spiegato anche come funziona la linea alternativa di autobus e poi la mostra del cavallo comincia con i cavalli in città a Foligno pedoni più sicuri al plateatico apre il nuovo sottopasso pedonale da domani spostamenti protetti verso l'adiacente polo scolastico e ancora la Val di Chianti lo svincolo dei scopoli non va cancellato si torna a dialogare appello di Verini del PD dopo il no del ministero alla realizzazione del progetto con Foligno la presa di posizione di Elisabetta Piccolotti di SEL il PD ha voltato le spalle ai lavoratori esternalizzati nel merino bassi salari e precarietà SEL e gruppo misto attaccano la giunta ancora chiudiamo dai comprensori con il messaggero da Perugia Mense Nidia Scolabus più di mille non pagano ogni anno Palazzo dei Priori non incassa più di 250 mila euro caccia agli evasori chi non salda non può iscriversi al nuovo asilo Ponte San Giovanni la strada nuova apre la rotatoria tra via dei loggi e via Volumnia poi il sottopasso Calabrese dice chiusura in anticipo entro novembre sarà tutto fatto ancora da Perugia corsa per finire in piazza Grimane piazza Matteotti altri soldi per le telecamere già programmate a Fontivegge abbiamo visto la questione scuola Perugina il piano degli operai di fronte alla multinazionale ieri il coordinamento europeo del gruppo Nestle a Girona FC niente treni bus ma dieci minuti prima da questa mattina fermati tutti i convoi nel tratto tra Umberti e le città di Castello servono manutenzioni gli autobus partiranno in anticipo protestano i pendolari i ritardi saranno inevitabili d'ora in poi sarà ancora peggio Gubbio ancora fortuna nella città di Ceri vinti all'820 mila euro Gualdo presi due spacciatori quarantenni ancora Umberti d'ecco fratta dell'800 sempre da Gubbio comune polemiche sulle assunzioni il protocollo con la multiservizi poi la proroga del contratto di sei mesi questo nel mirino del consigliere Gagliardi andiamo a Foligno con la Quintana nella settimana appunto che porta la sfida e la rivincita a Manniti tenta tanta tradizione per gustare le notti di Quintana in taverna menù rivoluzionato ma non stravolto nel segno del gusto eventi a tema dopo la cena per allungare il clima di festa in attesa della rivincita e poi la divina commedia nell'arte contemporanea i grandi maestri in mostra al ciac che illustrano la prima pagina della pregiata edizio princeps e poi lasciamo il messaggero andiamo all'economia partendo dal Corriere dell'Umbra economia poi ovviamente cultura e spettacoli c'è la vicenda perugia in primo piano crollo degli stagionali calano le ore denuncia dei sindacati allarme fino a Barcellona mozione anche della maggioranza Barcellona infatti c'è il coordinamento internazionale dal punto di vista sindacale l'anno scorso in questo periodo c'erano 200 stagionali i primi erano arrivati il 4 agosto ad oggi i primi stagionali sono arrivati il primo settembre sono 25 unità questi freddi numeri che danno appunto l'idea del ridimensionamento enologica incontri e degustazioni nella scoperta del sagrantino l'appuntamento come detto per questo fine settimana l'economia con il giornale dell'Umbria pensioni e jobs acti il governo sia coerente da domani la scuola di lavoro e welfare Cesare Damiano dice Renzi basta annunci appuntamento a Terni internet veloce in tutte le aree industriali Umbre innovazione paparelli svela il piano ex Merloni oggi si torna a parlare a Roma dell'accordo di programma appuntamento è al ministero dello sviluppo perugina la maggioranza in calza alla giunta serve il rilancio Palazzo Cesaroni avverte appunto con la nazione anche qui uno sguardo all'economia la troviamo nelle pagine nazionali quello che riguarda l'Umbria si parla di edilizia costruire istituti più moderni in Umbria arrivano 8 milioni edilizia scolastica una spina una spinta al comparto edile dalla legge buona a scuola poi la Perugina diventa avvertenza europea il caso affrontato nel vertice spagnolo andiamo a parlare di cultura e spettacoli lo facciamo con il messaggero con gli appuntamenti che arrivano dalla pagina di Umbria Regione benvenuti a Monte Corona l'eramo sospeso nel tempo e poi cavalli e carrozze conquistano il centro storico di città di Castello questo dunque lo spunto e le proposte che arrivano dal quotidiano romano con la Nazione anche qui la cultura e gli spettacoli si parla di Don Matteo X nel cast anche Dario Cassini l'attore vive a Todi sarà il pubblico ministero Don Matteo tra l'altro ieri c'è stato un nuovo incontro a Roma da parte dell'amministrazione comunale il sindaco Stirati con i rappresentanti della Fiction per l'atteso ritorno a Gubbio la prossima settimana con il giornale dell'Umbria anche qui uno sguardo alle pagine di cultura e spettacoli c'è ad Assisi il concerto sulle orme di San Francesco l'Umbria ensemble la produzione del professor Broccoli e poi segnaliamo questo servizio un po' di Umbria in musica nell'ultimo film di Zaccardi il gruppo del Folignati Francesco Lucidi firma un pezzo per la pellicola con Gerini e Bocci e sbarca nei videogiochi andiamo al Corriere dell'Umbria per gli spunti che arrivano per l'Umbria appunto al Via la Sagra Musicale nel segno del Salterio inizia oggi con i primi vesperi in cattedrale rassegna giunta la settantesima edizione dalle 19 e la mezzanotte bianca poi domani il concerto d'apertura a San Pietro e noi con questo ci fermiamo per uno stacco pubblicitario tra poco di nuovo insieme con lo sport a San Pietro